Siamo servitori della parola di vita eterna e crediamo che non solo di pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Così Papa Francesco ha salutato i membri della United Bible Society Relations Committee ricevuti in Vaticano. Il Pontefice ha espresso gratitudine per quanti compiono ogni sforzo per far conoscere il Vangelo, oggi attraverso le molteplici forme di comunicazione sociale, sottolineando che il lasciarsi ferire dalla parola è indispensabile per esprimere con la bocca ciò che dal cuore sovrabbonda. Essere servitori della verità aggiunto vuol dire annunciare a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio e senza paura. Siamo servitori della parola di Dio potente, che illumina, protegge, difende, guarisce e libera. La parola di Dio non è incatenata. Per essa molti di nostri fratelli e sorelle sono in prigione e molti di più hanno versato il loro sangue come testimonianza della loro fede in Gesù Signore. Camminiamo insieme affinché la parola si diffonda. Preghiamo insieme perché sia fatta la volontà del Padre. Lavoriamo insieme affinché si compia in noi ciò che il Signore ha detto. Grazie.